Ciao, benvenuti, siamo qua su, sull'albero, per gli introvabili, gli introvabili sull'albero. Chi ce li ha mandati, ve lo ricordate? Ce li ha mandati lei, la biblioteca di San Giorgio di Nogaro, che è con noi. Ci sono un libro senza parole, ma con una sola esclamazione. E che c'è qua? L'autore è Josse Goffin, credo si pronunci così. E questa è una casa, editrice che è la Réunion des Musées Nationaux, non so come si pronuncia, a Lidi. E che cosa farà? Lui, che cos'è? Un cocodrillo, secondo voi? Cercherò di stare zitta, visto che è un libro senza parole. Le parole mettetele voi, nella vostra testa, o anche parlando. Oh! 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 Sì, sì. Ah Oh 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 Oh! Ow! Hmm? Oh! Oh 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 Ciao a presto